Benvenuti amici ed amiche sul nostro canale. Il vostro like è sempre gradito e ricordatevi prima di continuare a guardare il video e l'ultima notizia di iscrivervi al canale, perché per poter essere sempre aggiornate sulle nuove notizie in anteprima. Gianni Aman ritorna a Roma. È ancora polemica sui social, ma lasciatelo in pace, dice qualcuno. Ebbene sì, Gianni Aman è tornato a Roma. La foto è stata scattata da Gianluigi Barberi, fotografo dei VIP e pubblicata sul suo profilo di Instagram. Immortale l'attore turco davanti al portone della sua abitazione a casa. Gian sarebbe tornato dalla Turchia venerdì scorso e attualmente sarebbe a Roma, ma la sua permanenza di Istanbul sarebbe durata solo pochi giorni. Come vi avevo mostrato in un video precedente, ha il tempo di trascorrere qualche ora di serenità insieme alla sua famiglia e soprattutto a sua mamma, Goulden, con cui ha condiviso immediatamente la foto anche su Instagram. Gianni Aman qualche settimana fa si era lasciato andare ad un duro sfogo sui social per la troppa pressione a cui era sottoposto da parte di alcune fan sfegatate. Ho cercato sempre di essere riservato, aveva scritto, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale. Vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso. Rilassiamoci. Spero possiate trovare pace a tutti quanti, perché io ne ho tanto bisogno. Vorrei dire a coloro che mi vogliono bene veramente. Non vado via dall'Italia. State sereni. Il mio prossimo progetto è ambientato in Italia. Queste sono le parole che aveva scritto appunto Jeanne. Addirittura Jeanne Aman faceva riferimento al fatto che alcune persone avessero superato ogni limite, stalkerandolo e attaccando specialmente ogni donna che si affiancava a lui, senza ritegno e senza rispetto. Quindi dichiarava di voler cambiare casa, di andare via da Roma, ma non dall'Italia. Anzi, l'attore confermava che sarebbe stato impegnato in un nuovo ed importante progetto di respiro internazionale, ambientato proprio nel nostro paese. E sapete tutti di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando appunto del nuovo rapporto che lui ha stipulato con la Disney Plus e della nuova serie che si chiamerà Il Turco e che verrà appunto girata anche in Italia. La foto scattata da Barbieri però ha suscitato sentimenti contrastanti nei fan che si sono dimostrati alcuni entusiasti e tra altri un pochettino rispettosi proprio del pensiero di Jeanne. E infatti c'è chi si dimostra entusiasta per il ritorno di Jeanne a Roma e c'è invece chi se la prende con il fotografo in quanto ancora una volta il loro idolo viene sottoposto ad una continua pressione da parte dei mass media. Cosa non è chiaro del comunicato di Jeanne a Man. Ancora sotto casa state e applaudite tutti pure? Questo è uno dei commenti che si leggono sotto appunto questa foto da parte di uno dei follower di Jeanne sotto la foto pubblicata di Barbieri. Ma c'è anche chi plaude e ringrazia il fotografo per aver immortalato Jeanne di nuovo a Roma. Lui è innamorato dell'Italia e non vede l'ora di tornare. Eccola! La notizia è finita, aspettiamo la prossima ma solo se vi siete iscritti al canale potrete vederla e seguirla in anteprima. A presto! La notizia è finita, aspettiamo la prossima